Il dono del consiglio riguarda la direzione nelle azioni particolari, mentre la scienza, la sapienza e il consiglio riguardano il giudizio generale, il dono del consiglio ci accompagna nel giudicare le varie situazioni particolari, se è un'azione buona o meno buona, se è una cosa è da fare o non è da fare e usare i mezzi adatti per poter raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi. La guida sicuro in tutto questo è lo Spirito Santo che ci consiglia e che ci suggerisce, per cui, cari amici, è importante mettersi sulla stessa linea d'onda dello Spirito Santo, perché se non siamo attenti non percepiamo più il dono del consiglio. Credo che sia una bella cosa, tutte le mattine quando ci alziamo, di chiedere a Dio il dono del consiglio su tutte le cose che dobbiamo fare nella giornata e all'inizio di ogni azione rinnovare la richiesta che lo Spirito Santo ci consigli in quello che dobbiamo fare. La furia, la corsa è in forte contrasto con il dono del consiglio, è solo la pace, la serenità che dà la possibilità di ascoltare quello che lo Spirito Santo ci suggerisce volta per volta attraverso il dono del consiglio. Buona giornata.